Amici telespettatori, questa è la rubrica della Confederazione Europea Sindacati Indipendenti. La Confederazione ha come scopo il miglioramento professionale e anche economico di tutti gli operatori nell'ambito della Comunità Europea. Oggi però dobbiamo fare un momento di riflessione dopo quello che è successo con l'uscita dell'Inghilterra, della Gran Bretagna dalla Comunità Europea. In effetti ha creato un poco di problemi non soltanto agli stati della Comunità ma anche ai lavoratori della Comunità Europea. Io penso che chi ha fatto la Comunità Europea doveva mettere come pilastro l'Unione Europea attraverso la cultura e quindi questo deve essere il motto, quello che ci ha sempre ispirato, quindi l'equiparazione delle nazioni attraverso la cultura, non come hanno fatto loro a voler mettere un sistema economico, una moneta unica che ha creato soltanto dei problemi. Io penso che lo scopo della Confederazione era ed è quella dell'equiparazione giuridica ed economica di tutti gli operatori nell'ambito della Comunità Europea, cosa che oggi purtroppo sta venendo un po' meno. Vediamo un po' cosa sta succedendo in Italia. Con il governo Renzi c'è stato non un appiattimento salariare ma bensì una grossa speculazione a scendere giù sugli stipendi degli statali, dei dipendenti privati e tutto. Parliamo della scuola. La scuola è sempre stata la cenerentola, come abbiamo già detto pure l'altra volta. Oggi ci troviamo con un contratto bloccato da anni, il ministro della pubblica istruzione è venuto a fare una proposta che viene soltanto da ridere, nemmeno di 10 Euro al mese lordi e quindi significa che praticamente siamo veramente alla rovina di questa nazione perché sanno tutti quanti che una nazione tanto può migliorare quando ci sta un grosso avanzamento culturale ma anche economico. Quindi non si può avere un miglioramento di una nazione se la parte trainante, quella della cultura, viene maltrattata. Quindi la riflessione che noi stiamo facendo adesso è quella di cercare a tutti i modi di far capire ai nostri interlocutori, quindi al governo Renzi che la devono smettere di prendere in giro gli statali e i docenti in particolare. Quando parlo di docenti parlo di tutto il pubblico impiego per quanto riguarda la scuola. Quindi oggi dobbiamo fare questa riflessione, dobbiamo cercare di fare in modo che ci mobilitiamo per far sì che il governo Renzi capisca che se non ci sta una scuola che funziona, ma non soltanto a farli lavorare, ma una scuola che funziona in tutto e per tutto con le gratificazioni professionali, economiche, secondo me si andrà alla rovina. Passiamo al momento che stiamo vivendo anche a livello istituzionale, cioè non abbiamo degli interlocutori certi, il governo Renzi cerca di mettere in risalto il referendum, i problemi della nostra nazione sono veramente fondamentali, ma sono sostanziali, non si può andare avanti così a rottura completa con i sindacati, se non ci sta un raccordo con i sindacati, il sindacato in genere, non parliamo della Confederazione Europea e sindacati indipendenti, ma il governo deve andare d'accordo con tutti i sindacati, deve chiamarli, metterli vicino a un tavolo di trattativa e cercare di trovare dei punti di accordo. Non ci possono stare queste fratture, perché fratture significa dare spazi a estremismi, significa dare spazi a gente che protesta, ma protesta senza avere delle idee chiare. Prima di chiudere questa breve intervista volevo fare di nuovo un appello al settore scuola che sono in via di ultimazione e pubblicazione i bandi di selezione dei dirigenti scolastici, quindi noi come Confederazione Europea e sindacati indipendenti, d'intesa con l'Associazione Italiana Maestri Cattolici, stiamo preparando dei moduli di preparazione per le prove selettive. Chi ci vuole contattare, lo vuole fare attraverso la redazione della nostra emittente, teleistituzioni, ciò c'è la libera oppure un toit e la può anche vedere in sovrapposizione. Alla prossima!